gentili telespettatori buona giornata benvenuti a questo video di tele italia la notizia proprio di ieri che sul litorale romano ostia fiumicino praticamente i prezzi delle case d'affitto in affitto per questa estate stanno aumentando del 30 per cento perché c'è una forte richiesta soprattutto di mille con piscina una forte richiesta di casi in affitto quindi probabilmente tutti gli italiani che pensavano di andare all'estero di qua e di là stanno decidendo in maniera forzosa di fare le vacanze in italia beh meno male che intanto chi voleva spendere soldi all'estero li spenda in italia aiutando il nostro turismo voi sapete che il turismo con tutto il suo con tutto quello che comporta tutta la cornice che ha intorno l'indotto porta addirittura un 20 per cento del pil la produzione italiana di ricchezza annua il 20 per cento cioè un euro ogni 5 di produzione di ricchezza viene dal turismo in italia quindi un settore di un'importanza fondamentale e cruciale e franceschini ha avuto un'idea che mi sembra interessante due miliardi per aiutare il turismo così tutte le famiglie potranno andare in ferie per tutte forse un buon numero diciamo perché con la povertà che c'è in italia non credo che tutte le famiglie stiano pensando come vado in ferie quest'anno mannaggia forse forse no ma il ministro franceschini numero due del partito numero tre dice c'è orlando franceschini comunque dopo zingaretti diciamo così dice le spiagge italiane sono molto diverse andrà lasciata libertà di intervento alle singole regioni le prescrizioni devono arrivare molto in fretta quindi si sta aspettando intanto che ci siano delle regole ufficiali perché si ipotizzava plexiglass recinti cose un po assurde e sentendo anche un mio amico assiduo frequentatore di spiagge più che altro è una persona benestante che lui tutto l'anno pensa solo ad andare in vacanza e dice ma io quest'anno non andrò certo mica si può andare al mare con la cupola di plexiglass beh in effetti piuttosto che la cupola di plexiglass io preferisco a questo punto andare a visitare città italiane magari ti fermi al bar sulla spiaggia ti metti sul tavolino osservi il passeggio ma andarsi a mettere in un ombrellone con recinto dove devi uscire dal recinto e non puoi passeggiare sulla spiaggia ma vai in acqua poi il bar è chiuso devi stare a due metri dal balcone capite che già è noioso stare in spiaggia perché non so voi ma io quando ero ragazzo comunque stavo in spiaggia ma dopo col tempo è diventata una bella noia passare tutto il giorno sotto l'ombrellone è veramente noioso veramente veramente noioso soprattutto se poi non puoi farti nel passeggiato non puoi andare al bar a prenderti un gelato perché devi stare a sei metri dall'alto di parlare col microfono comunque in attesa di queste regole ufficiali franceschini anticipa la filosofia dell'estate ai tempi della malattia perché conte ha detto la vacanza gli italiani le faranno potranno andare in spiaggia su questo non c'è dubbio però con quali tempi con quali soldi il governo aiuterà il mondo del turismo non si sa ma conte ha detto proprio al correre della sera ci attendono mesi molto difficili ma l'estate non sarà in quarantena come la vede franceschini e lui dice che saranno vacanze diverse delle diversamente vacanze eccole stiamo lavorando perché siamo possibili perché siano possibili al mare in montagna nelle città d'arte nei borghi ovunque ma avremo dei limiti con cui convivere dal distanziamento alle mascherine alla prudenza in generale non andremo all'estero gli stranieri non verranno da noi e sarà l'anno delle vacanze italiane perché il turismo internazionale extraeuropeo difficilmente potrà ripartire e gli italiani che saranno andati a fare le vacanze lontane potranno riscoprire le infinite bellezze che hanno vicino casa in effetti quelle che tutto il mondo ammira in effetti non so voi ho girato spesso l'italia per lavoro ma ci sono di quei posti assolutamente incredibili in italia incredibili incredibili e non ce ne sono pochi ce ne sono decine di migliaia decine di migliaia è difficile tutta una vita per vedere quello che c'è in italia quindi io capisco andare all'estero voglio vedere le maldive non lo so voglio vedere la tour eiffel non lo so voglio andare per una volta negli stati uniti voglio vedere una spiaggia caraibica ma poi basta nel resto quando ti sei tolto lo sfizio di vedere queste cose io sento gente e voglio andare a vedere voglio andare in austria in austria a fare che cosa voglio andare a praga a fare che cosa a praga ma io vorrei andare nel nord europa ma a fare che cosa a fare a vedere i mulini ma che che i mulini guardati una foto su internet dei mulini ma tu spendi migliaia di euro per andare a vedere i mulini guarda che in italia ci sono tante cose più belle che i mulini o i tulipani che che non basta appunto una vita per vederle per vederle tutte ma quando riapriranno queste frontiere con l'estero e franceschini dice importante che sia possibile il libero passaggio di turisti tra paesi europei quando l'andamento dei dati epidemiologici lo consentirà attraverso regole di sicurezza e certificazioni comuni e quanto ho chiesto alla commissione dell'unione europea insieme a molti colleghi di altri paesi spero che la prossima settimana ci sia una pronuncia ma come si fa a progettare le vacanze senza sapere quando si potrà tornare a circolare tra una regione e l'altra le seconde case poi franceschini dice che il ministro speranza ha messo a punto un monitoraggio molto efficace per seguire l'andamento del contagio nelle diverse regioni che ci consentirà di fare scelte ponderate bene dice io spero sia possibile molto presto ma sentiremo il comitato tecnico scientifico e le regioni le regioni stesse bilancio dei danni basteranno i soldi stanziati nel decreto in arrivo e lui dice che tutti i settori sono stati drammaticamente colpiti dalla crisi ma il turismo è quello che ha pagato più duramente nel decreto rilancio ci saranno misure per le imprese dai crediti d'imposta per gli affitti ai ristori per le aziende che hanno avuto un grande calo di fatturato e per gli alberghi sino all'allungamento temporale degli ammortizzatori e sociali poi franceschini specifica parliamo di 150 euro per un singolo e di una somma fino a 500 euro per coppie con figli aiuterà le famiglie e porterà nel comparto turismo oltre due miliardi di euro diretti perché questo costa la norma oltre all'indotto che creerà un intervento straordinario tra i più importanti dell'intera manovra quindi due miliardi che vanno da 150 euro a persona fino a 500 euro per coppie con figli quindi sono dei bonus da dire tu vai in vacanza in italia prenoti un albergo lo stato contribuisce per 500 euro se sei da solo lo stato contribuisce con 150 euro poi 150 euro ci paghi una camera due giorni certo non una supercamera di lusso però 70 75 euro ancora ancora si trovano delle delle camere negli alberghi al mare un 75 euro magari con un solo pranzo ecco già due giorni su sette di una settimana è già è già qualcosa è già qualcosa di interessante mi è piaciuta questa proposta di franceschini franceschini dice che prima di questa crisi il turismo internazionale in italia era come governare una crescita impetuosa questo tema tornerà perché l'italia è la prima meta desiderata in tutti i paesi del mondo ma servirà tempo e il dovere dello stato aiutare tutti gli operatori e le imprese non lasciando nessuno abbandonato a se stesso e io dico abbiamo la città più bella del mondo che è roma seguita poi da città bellissime come firenze bologna napoli palermo genova venezia ce ne sono travenna ce ne sono tantissime pesaro ce ne sono catania caltanissetta enna ci sono ma tutta l'italia è fantastica io vi dico andate in vacanza in italia non c'è bisogno di andare in giro per il mondo che fate ogni anno andate in una spiaggia diversa per dire sono stato fino là ma che serve c'è tanto da vedere in italia e poi soprattutto pulite roma pulite roma a raggi pulisci quella cavolo di città non cercare scuse è colpa di quelle colpa di quell'altro è colpa dello zio pino è colpa di chi governa quella città punto e basta punto e a capo quindi cara la mia bella faccia allegra della raggi metti a posto quella città metti a posto roma puliscila 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 vabbè io vi ringrazio per avermi ascoltato vi invito ad iscrivervi al canale l'iscrizione è gratuita siamo anche in facebook nella pagina tele italia io vi ringrazio vi auguro buon proseguimento di giornata arrivederci